Piazza Vittorio Emanuele II in cerca di rilancio. Soceba, la società immobiliare impegnata nella riqualificazione di questa porzione del centro, annuncia che a breve verranno sistemate le fontane e la pavimentazione. A oggi però la situazione non è certo delle migliori e i pochi commercianti aperti in zona rossa non mancano di sottolinearlo. Il passaggio, dicono, è molto limitato. In alcune ore è addirittura inesistente e l'eliminazione dei parcheggi dalla piazza non è stata certo d'aiuto. Per non parlare dell'illuminazione, dopo una certa ora l'area è immersa nel buio e nell'oscurità, come si può facilmente immaginare, sguazzano vandali e malintenzionati. Sono continue infatti le segnalazioni di episodi incresciosi tra Piazza Vittorio Emanuele e Via Solferino. Una migliore illuminazione, rimarcano i commercianti, servirebbe sicuramente da deterrente. La speranza è che il completamento dei lavori annunciato da Soceba non subisca rallentamenti. C'è un angolo del centro di busto che ha voglia di risollevarsi al più presto.